lg in the box oggi parliamo di lg surf 4 gigabyte un cellulare touch che sposa multimedialità ed eleganza il display full touch da 3 pollici di lg surf è infatti racchiuso in un design compatto leggerissimo ma al tempo stesso ergonomico impreziosito da materiali cromati e dalla leggera tinta argento blu o viola un telefono chic nella forma ma che non delude in quanto a sostanza lg surf può memorizzare una grande quantità di contenuti grazie alla memoria interna da ben 4 gigabyte migliaia di canzoni foto e video da portare sempre con voi e che potranno essere trasferiti dal vostro pc tramite connessione usb ad alta velocità con la funzione memoria di massa e qualora lo spazio non bastasse potrete sempre espandere la memoria con schede micro sd fino a 16 gigabyte sul retro di lg surf è collocata una fotocamera da ben 5 megapixel le foto scattate potranno essere poi modificate e arricchite da effetti grafici o disegna mano libera oppure utilizzate per comporre video musicali con il software movie studio la qualità audio del lettore mp3 è garantita dalla certificazione dolby mobile che equalizza la vostra musica preferita per offrire un ascolto ottimale non mancano la radio fm con rds e 48 memorie e il supporto per le cuffie bluetooth stereo insomma un telefono multimediale di ultima generazione che non si fa mancare niente anche sul fronte connettività l'hs dpa a 3,6 megabit per secondo e il browser full internet rendono lg surf perfetto anche per la navigazione su web mentre le applicazioni dedicate a facebook e a twitter permettono di tenersi costantemente in contatto con i propri amici pubblicando pensieri o fotografie sui due social network più popolati è anche possibile tenere sotto controllo la propria corrispondenza grazie agli account email preconfigurati per i maggiori provider e al servizio di email push tramite microsoft exchange e nemmeno gli allegati rappresentano un problema perché lg surf può leggere i documenti microsoft office con estrema semplicità lg surf 4 giga offre un'esperienza touch veloce e intuitiva grazie alle tre differenti schermate principali per accedere ai contatti preferiti al live square ovvero una piazza virtuale che si popola con i contatti più frequenti e ai widget scaricabili gratuitamente dalla widget gallery di lg questo nuovo gioiello firmato lg sarà disponibile già dalle prossime settimane nei migliori negozi di telefonia con una dotazione di serie che comprende le cuffie stereo con jack da 3,5 mm e il cavo dati micro usb cari amici di lg in the box anche per oggi è tutto vi do appuntamento alla prossima puntata per parlarvi dell'evoluzione di un grande successo lg dell'anno scorso alla prossima